Ieri la Presidente del Consiglio ha presentato il programma elettorale per le europee, il suo nome. Dietro il suo nome niente, non c'è un'idea, non c'è una visione per l'Europa che serve alle persone. Un'Europa più sociale, mentre qui tagliano la sanità pubblica. Un'Europa del lavoro, mentre qui la destra di Giorgia Meloni nega il salario minimo a più di 3 milioni di lavoratrici e lavoratori. Un'Europa più verde, in grado di costruire nuovo lavoro e buona impresa attraverso la conversione ecologica. Mentre qui continuano a negare che ci sia l'emergenza climatica. Ecco, mi sembra che dietro quel nome ci sia poco o nulla. E noi dall'altra parte invece vogliamo portare avanti proprio l'idea dell'Europa che vogliamo e che serve per migliorare la vita delle persone e del pianeta. Litigano su vannacce. Litigano su tante cose, litigano. Io posso solo aggiungere che votare il Partito Democratico vuol dire votare una squadra. Una squadra a cui darò una mano anch'io, mi sono candidata per questo. Una squadra di persone competenti e credibili con la loro storia personale. E votare il Partito Democratico vuol dire non solo rafforzare un'alternativa a questa destra. Vuol dire anche rafforzare il cambiamento del Partito Democratico che abbiamo avviato un anno fa con le primarie. Quindi insomma ci sono tante buone ragioni per darci una mano. Grazie.